Al Gambrinos di Montecatini Terme conferenza stampa ma soprattutto presentazione per questo concorso che poi non è la prima volta quest'anno ma credo la seconda per Toscana per Mistel Garda un concorso un po' toscano ma che strizza l'occhiolino al Garda qui abbiamo il patron di questo bel concorso, si presenti, carta d'identità, escluso l'età No beh quella è meglio lasciarla perdere Bianchini e Enrico sono di Verona, organizziamo da 17 anni il concorso Mistel Garda che è un concorso a livello locale ma ben conosciuto anche in tutta Italia con ragazze che hanno ottenuto dei grossi risultati in questi anni Ok io vedo che lei fa un buon casting ma di ragazze, questo va bene, le sue ragazze ormai stanno già lavorando in tv nazionali sono delle modelle importanti ma anche in presentatrici scelte con questo credo che questa ragazza così carina sia la presentatrice nazionale Sì io mi occupo di presentare le ragazze ma sicuramente il lavoro più importante è quello che viene fatto prima cioè lo scouting delle concorrenti, la scelta e tutto il lavoro che si fa e che si viene a creare prima dello spettacolo vero e proprio Durante la conferenza stampa mi hai fatto un pochino simpatia, sorridere, quando dicevi un po' ce le sentiamo come le nostre figlie ma sei un po' troppo giovane, secondo me dovresti stare in passerella tu, non considerare figlie magari il patron con tutto rispetto ce lo posso vedere Allora ti ringrazio, io ho un passato come Miss, sicuramente ho partecipato come Miss anni addietro ora diciamo 32 anni quindi insomma ovviamente la Miss non la faccio più mi occupo di gestire queste ragazze come ti dicevo a volte le sento quasi come mie figlie ma non nel senso perché ho l'età di essere la loro madre ovviamente ma un po' perché le accompagni in un percorso e quindi le vedi crescere magari passando dalla ragazzina semplice della porta accanto ad una modella nazionale in questo senso Conosciamo allora per la Toscana Miss del Garda le ragazze che hanno partecipato e che hanno avuto anche delle fasce l'anno passato questa credo che sia se ho studiato bene dura Anita Cerri, la seconda classificata Buonasera, è stata un'esperienza molto bella, mi sono divertita, anche le compagne sono state molto amichevoli, estroverse e la rifarei mille volte Sentiamo invece, scusate che mi faccio, cerco di farmi piccolo piccolo, mi intrometto Tu sei? Giulia Giulia, tu sei di? Pescia Di Pescia, quindi Valdinievole, com'è andata? Bene, sono molto divertita nonostante fosse la mia prima sfilata e è stata una bellissima esperienza che comunque sia di farei vere volte anche grazie all'MG Moda e alle compagnie che mi hanno accompagnato in questo percorso Proseguiamo ancora nella conoscenza delle ragazze nostrane che rappresentano la Toscana ma soprattutto anche la Valdinievole Tu sembri un po' come ha detto qualcuno, un po' tedesca Sì, no, invece sono Toscana, abito a Certaldo, provincia di Firenze, ho 19 anni e frequento l'università di infermieristica e per quanto mi riguarda Miss Toscana per il Garda è stata la mia prima esperienza e devo dire che è stata indimenticabile questo soltanto grazie all'MG Moda e al Patron, insomma io la consiglio a tutti, vi divertirete e in bocca al lupo ecco Guarda che cade la fascia, ti è la stretta Allora scusa mi sposto e invece qui abbiamo la quarta fasciata Tu eri arrivata e ti hai riclassificata come l'anno scorso? Con Miss Special Girl, anche se non ho partecipato sul Garda io mi sono divertita molto, è stata sempre una bella esperienza e continuo a fare come ho fatto sempre e l'importante è divertirsi Maria Grazia Giardi, abbiamo conosciuto il patron del concorso nazionale e qui conosciamo la signora Giardi di MG Moda che è l'agenzia organizzatrice in Toscana di questa joint venture piace questa parolina così, joint venture con il concorso nazionale perché avete scelto l'anno scorso e perché confermate quest'anno la scelta di abbinarvi a un concorso che apparentemente può sembrare un po' lontano Miss Del Garda Allora Miss Del Garda è stata l'idea che poi abbiamo trasferito qui al Gambrinus di Monte Catini Terme e abbiamo chiamato questo concorso nuovo Toscana per Miss Del Garda perché noi lavoriamo per il nostro territorio quindi Monte Catini, Valdinievole, Toscana, fino a tutta la Toscana ma il premio finale delle nostre ragazze sarà proprio un soggiorno sul Lago di Garda così che anche li permette senza spesa alcuna, voglio dire, privata ma invece fa parte proprio del premio che loro andranno a giudicarsi questo soggiorno sul Lago di Garda partecipando alla finalissima di Mister Garda nazionale perché loro sono le finaliste di Toscana per Miss Del Garda Ok, quante selezioni ci saranno più o meno qua al Gambrinus di Monte Catini? Beh, per adesso siamo a cinque selezioni Comunque è in costruzione, no? Siamo ancora in inverno È in costruzione, adesso partiremo con i casting pomeridiani si presentano tante ragazze, infatti rispondendo alla tua domanda perché? Perché tantissime richieste dall'anno scorso si sono fatte avanti tantissime ragazze che hanno chiesto di partecipare a questo punto prima faremo dei casting così di incontro, pomeriggi di incontro parleremo con loro del concorso eccetera e poi inizieranno le serate di selezione estive proprio qui sul palcoscenico del Gambrinus Alla che dire, buon lavoro, in bocca al lupo e viva il Garda, e viva Toscana per il Garda Toscana per il Garda, viva il Gambrinus Ciao a tutti Ciao, grazie E qui dal Gambrinus di Monte Catini Terme ci siamo proprio fatti un'idea di come funziona questa Toscana per Miss Del Garda e io insieme alle mie amiche, alle fasciate dell'edizione precedente Alessandro Martini vi saluto e che dire appuntamento in estate al Gambrinus di Monte Catini Terme Ciao, ciao Ciao